Allora, video di recensione di questa cosettina che contiene dei paduffoli di alcol che mi è arrivata da Aliexpress mi sembra di aver pagato intorno ai 2,50 euro ci ha messo un mese ad arrivare e mi sembra molto carino, allora vediamo era sigillata, ho tolto il sigillo ci sono le pinzette che si possono riporre qua quindi molto carino, anzi adesso rimetterò un pezzettino di scotch proprio per essere sicuro che si infiliano qua dentro 6 pinzette, dopodiché allarghiamo le pinzette andiamo a catturare un paduffolino d'ovatta aspetta, vedete dentro ci sono i paduffolini d'ovatta andiamo a catturare uno e abbiamo un paduffolino d'ovatta completamente imbevuto di alcol allora l'alcol dov'è che lo uso? quando io cambio il Descom o l'Homipod con un paduffolino d'ovatta vado a seccare la pelle sì, in parte a disinfettarla ma soprattutto a seccare la pelle e il fatto di avere un paduffolino già bagnato di alcol io ne posso creare anche altri da mettere qua dentro o posso insuppare con un po' di alcol qua dentro in modo che rimangono bagnati mi ritrovo che se vado a fare un contenitore da viaggio è più trasportabile e lo trovo carino, lo trovo perché c'è le sue pinzettine a parte le pinzette effettivamente basterebbe versarseli in mano quindi basterebbe un qualsiasi contenitore, no? in sostanza ho comprato l'idea però magari perché mi piacerebbe l'idea che c'era lo spazio per le pinzette però effettivamente non è che serve basta fare così e che non è che ho bisogno di pinzette eccolo qua lo prendo uno e ho il paduffolino insuppato d'alcol niente, le pinzette ho pagato l'idea delle pinzette però ecco ve la ridò l'idea che se avete un contenitorino così potete bagnare dei paduffoli di alcol così non dovete portare il cotone e l'alcol con due cose separate e poi fare l'operazione ma basta semplicemente una volta aperto il contenitore si ragazzi faccio prima così con le pinzette vabbè le pinzette ce le so però sono scomode le pinzette dopo per prendere il coso lo devo allargare si e mi ritrovo che lo posso prendere così con le pinzette vi faccio vedere qua questo è comprato sempre da Aliex è cotone di alta qualità paga costa non so mi sembra tipo 3 euro tutto sono 500 pezzettini sono queste salviette qua mi sembra che ce ne stanno mi sembra 500 qua dentro e costa 3 o 4 euro tutto quanto quelle di alta qualità da Aliex allora eccole salviette tagliate a metà queste sono sciutte dentro è tutto bagnato metto dentro eccola qua la prendo una queste sono le salviette imbevute di alcol perfetto e ce l'ho io penso che farò prima farò prima con questo metodo piuttosto che prendere la bottiglia dell'alcol insuppare il baduffolo portarmi dietro il baduffolo se sto in giro vabbè ciao 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 ciao